Amici del software, questa volta non libero e nemmeno open source, ben ritrovati in questo nuovo video di Marcos Box. Questa volta dedicato a mostrarvi una funzionalità davvero interessante che è stata aggiunta nell'ultima versione di Microsoft Paint, nella fattispecie la 11.2308.30.0. Che cos'è questa funzionalità? È una funzionalità che ci consente di rimuovere in automatico il sfondo dal foto. E vi faccio vedere la potenzialità di questa funzionalità con una immagine, un'immagine in questo caso generata con Microsoft Copilot. Trovate in alto destra, metterò da qualche parte, il link alla recensione di Microsoft Copilot e come attivarlo su Microsoft Windows in Italia. Ci sto rumorando, mi sono stati, apro una piccola parentesi, mi sono state fatte alcune segnalazioni che non funzionano per tutti e sto cercando di capire come mai alcune persone non funzionano. Comunque, aperta e chiusa parentesi. Veniamo alla funzionalità di rimozione dello sfondo. Questa è un'immagine anche abbastanza difficile da scontornare perché come potete vedere ci sono diversi elementi, oddio, l'ho scritto per sbaglio, ci sono diversi elementi a video, ma vi faccio vedere che facendo un semplice click su questa funzionalità rimovi sfondo di Paint, Paint come potete chiamare, ecco qua, l'ha scontornata anche in una maniera davvero ottima. Quindi con un semplice click del mouse ottenete risultati a dir poco spettacolari. Voi che cosa ne pensate di questa funzionalità? Siete contenti che sia stata introdotta finalmente in Paint? Lasciate un commento e lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ciao ciao!